Benvenuto in questo nuovo video e l'argomento è ma gli piaccio? Come faccio a capire se io interesso a lei o se io interesso a lui? Come faccio a rigenerare? Come faccio a piacere a quella persona? Come faccio ad attirarla a me? Ma prima di iniziare ti ricordo che puoi accendere la campanella per rimanere sempre aggiornato sugli argomenti di questo canale che sono straordinari. Se non mi conosci ti dico già che trattiamo di linguaggio del corpo, tempo, persuasione, benessere personale e tanto 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 altro. Quindi ti invito a iscriverti e ad accendere la campanella per rimanere sempre aggiornato con i nuovi video, mi raccomando. Ho visto questo video online di questa psicologa che giustamente rispondeva a una domanda di una fan, ossia ma come faccio io a capire se gli piaccio, se gli interesso? E lei diceva giustamente che se sono all'inizio della relazione o ancora si stanno frequentando e lui a volte c'è, a volte non c'è, a volte si nega, a volte è presente ed è anche magari coccoloso, affettuoso nei suoi confronti, ma non si impegna attivamente nel rapporto, vuol dire che non gli interessa. Magari è anche preso da lei, magari è attratto, magari lei gli piace in qualche modo, ma non è interessato, ossia che non ha l'interesse, la volontà di impegnarsi, impegnarsi, di impegnarsi in questo rapporto che sia all'inizio o già iniziato. Inoltre lei aggiunge il fatto che magari lui non è che la sta manipolando perché sta facendo i suoi interessi, magari vuole una relazione così mordi e fuggi come si suol dire e la sta mettendo in atto, però non si impegna e questo indica che in realtà non ha interesse verso di lei. E fin qui tutto bene, tutto chiarissimo, però com'è che puoi fare in modo tu che lui si impegni? Come puoi fare in modo che lei faccia qualcosa nei tuoi confronti e nei confronti della relazione? Come e quale strategia puoi mettere in atto affinché si innamori di te, affinché si impegni, affinché voglia stare con te, affinché ti desideri? Queste sono proprio delle gran belle domande, però io sono qui per risponderti e ti risponderò. Le cose che ti sto per dire sono importanti sia all'inizio di una relazione, sia prima che inizi, quando c'è la fase di seduzione, quando ancora c'è un po' di mistero, eccetera, ma anche nel mezzo di una relazione già consolidata, perché l'amore, la relazione, va rigenerata. Quindi, che cos'è che devi applicare per far attirare a te la persona, per sedurla, per fare in modo che si impegni nella relazione. Quindi, banalmente, che ti scriva per prima la mattina, che ti scriva il buongiorno, che ti mandi la buonanotte e cose del genere, che ti inviti a uscire, che abbia voglia di parlare con te, che ti chiami. Insomma, tutte quelle piccolezze che fanno capire che c'è dell'interesse, che c'è dell'impegno e che tu, proprio tu, gli piaci. Premessa, ci sono un miliardo di tecniche di seduzione, di attrazione. Alcune funzionano anche e sono anche utili per cambiare la mentalità in questo ambito e così via. Però è una cosa essenziale, basilare, che serve innanzitutto a te per star bene, per conoscerti, per conoscere le tue esigenze, per star bene, capire cosa è giusto da fare, cosa non è giusto fare per te, qual è la via da prendere nella vita e cose del genere. Quindi, per il tuo benessere. E poi, anche in ambito seduttivo, quindi per conoscere l'altra persona, capire di cosa ha bisogno, cosa vuole inconsciamente nella sua emotività, quindi anche come comportarti con lei, con quella persona. Cioè, ti vuole istituzionale, quindi che rispetti un certo ordine morale e comportamentale, oppure ti vuole un po' trasgressiva, un po' trasgressivo, quindi che esci dagli schemi, che gli fai fare qualche esperienza trasgressiva. Ecco, cosa ti può aiutare in questo? Ti può aiutare il linguaggio del corpo, ossia il linguaggio dell'inconscio, della parte emotiva della persona. E perché? Perché, come ti ho accennato poco fa, se l'hai colto tra le parole, il linguaggio del corpo ti indica esattamente di cosa ha bisogno la persona emotivamente, quindi per innamorarsi, per agganciarsi, per essere attratta. E ti fa anche capire se ti stai muovendo bene nell'atto della seduzione o meno. Esempio banale. Vedi lei, messa con il pugno sotto al mento, che si accarezza l'avambraccio in questo modo? Ecco, se tu vedi questo segnale, hai in mano tantissimo, sai tantissimo della sua emotività e di come devi porti con lei, se sei un maschietto che ci sta provando con lei, vuole sedurla, vuole attrarla. Magari se nel caso che ho detto all'inizio, ossia che c'è già qualcosa, vi state sentendo, però non c'è impegno da parte sua, non ti scrive, non ti coinvolge nelle sue cose, non ti racconta della sua giornata, insomma non si impegna. Ecco, tu vedi questo gesto, magari siete usciti una volta al bar e vedi questo gesto. Beh, grazie a questo gesto, tu puoi vincere. Tu puoi vincere nella seduzione e nel coinvolgimento emotivo. Perché? Perché grazie a questo gesto capisci tantissimo. Si fa questa coccola autoindotta da sola e tu cosa capisci? Capisci che lei è attratta da un atteggiamento cosiddetto a triangolo, quindi vuole che la proteggi, che la aiuti quando lei ha bisogno, che la tocchi in modo accogliente, coccoloso, come si sta autoinducendo da sola questa coccola. Ossia le dovrai mettere la mano sulla spalla in questo modo, dovrai essere protettivo con lei, dovrai dire frasi tipo non ti preoccupare, ti aiuto io, facciamo questa cosa insieme. Ma in realtà ti sta dicendo anche molto, molto di più. E questo è fantastico, straordinario. Ossia cos'altro ti sta dicendo? Ti sta dicendo guarda che io, te che sei maschietto, ti voglio anche un pochino trasgressivo. Quindi che mi porti a fare esperienze fuori dall'ordinario. E non che fai con me il soldato rigido e in positivo, con le regole, con il dovere e così via. Trattami in quelle viette dove ci sono quei giochini strani, quelle esperienze particolari. Questo ti sta dicendo. Quindi a te maschietto sta dicendo sii trasgressivo con me. Esci fuori dall'ordinario. Coinvolgimi in questo modo perché io adoro i maschi che si pongono in questo modo. Oppure facciamolo anche un pochino all'inverso. Ossia tu sei una donna che vedi un maschio, un uomo che magari ti piace, che ti interessa o che è proprio il tuo partner che fa questo gesto. Con un dito ad asta, quindi un dito rigido, e con l'altra mano che si va a pinzare. In questo modo. Magari è lì assorto e ogni tanto fa così oppure ti sta parlando e fa questa gestualità. Oppure la può fare anche sull'avambraccio. Quindi è messo così, si pinzetta. Ok? Come se fosse una pinza. E quindi il suo inconscio che cosa ti sta dicendo, mia cara? Ti sta dicendo che ti vuole egocentrica. Ossia vuole che gli dai consigli, che lo tocchi anche non in modo avvolgente come prima, quindi a triangolo, come se fosse una mamma che avvolge, che accoglie. Bensì vuole che lo tocchi proprio in questo modo. Quindi se vai magari dietro le sue spalle, non è che vai e gli fai una coccolo. Bensì lo prendilo pinzetti in questo modo sulle spalle. Ok? Perché ti sta chiedendo, siccome è più egocentrica, comportati da cerchio. Perché questa indica una tipologia emotiva il cerchio. E puoi trovare le spiegazioni in altri miei video nel canale. Anzi, te le linko qui sotto. in descrizione. Te li puoi guardare. Così impari che cosa vuol dire questo. Che cosa vuol dire questo. Che cosa vuol dire questo. Benissimo. Quindi, cos'altro vuole da te? Vuole inoltre, non solo che gli dai consigli e che gli parli con una gestualità egocentrica. Quindi, che muovi la mano in questo modo. Quindi, che fa il segno dell'ok. Che lo tocchi a pinza. Ma anche vuole che tu ti neghi. Vuole che tu sia un pochino difficile da conquistare. Che gli dica qualche no. Che non sia sempre presente. In questo modo lui si innamora. Si coinvolge di te. Se invece lui fa così. Tu sei sempre presente. Fai la chioccia. Fai la mammina che aiuta sempre. E lo aiuti sempre. Ecco che lui ti lascia. Si sgancia. Va da un'altra. E finisce la storia. Invece no. Adesso no. Perché tu sai che in questo modo. Se lui si tocca così. Oppure così. Sai come ti devi comportare. Cosa devi fare. Ossia dargli consigli. Porti un pochino assente. E negarti. Benissimo. Questi sono solamente due segni. Che abbiamo visto. Due cose del linguaggio del corpo. Che ti indicano tantissimo. Come hai visto. Come devi porti. Cosa devi dire. Se devi dare un consiglio. Se devi aiutare. E così via. Ce ne sono moltissime. Ma anzi. Più di moltissime altre. Che ti dicono ognuna qualcosa di preciso. Per esempio. Se la persona si tocca i capelli in questo modo. Quindi si accarezza i capelli. Vuol dire che ha necessità. Ha un'esigenza emotiva. Di coinvolgersi sentimentalmente. Quindi di amare. Di essere amato. Di vivere l'amore. E tu in questo modo. Sai che devi parlare. Per coinvolgere questa persona. Di amore. Di sentimenti. Di partner. Allora caro Giorgio. Come sta andando con il partner. Ma la fidanzatina. Non te la trovi più. Come va. Sai l'amore ogni tanto. Ti fa soffrire. Eppure. Eppure abbiamo bisogno di amare. Perché siamo nati per amare. E per essere amati. E in questo modo. Vedrai che lui o lei faranno ancora questo gesto. O altri segnali di gradimento. Come il mordichiamento di labbro. E si coinvolgeranno. E tu diventerai persona stimolante. Significativa per lei. E questo è un altro modo per coinvolgere. Per sedurre la persona. E non solo. Perché questo è anche un modo per riattivare. Ravvivare. Il rapporto di coppia che magari stai vivendo da qualche anno. Quindi se tu sei chioccia. Che sei sempre lì. Gli stai addosso. Sei sempre presente. Sei sempre disponibile. Ma lui fa questo gesto. Sbagli. Sbagli. È normale che non ti guardi più. Che non ti consideri più. Perché si sgancia. Non è la cosa che vuole emotivamente. Non è quella cosa che lo coinvolge. Che gli fa battere il cuore. Bensì cosa vuole da te. Vuole che a volte ti neghi. Vuole che tu non sia sempre disponibile. Vuole che gli dai più consigli che aiuti. Quindi questo è importantissimo da fare. Mi raccomando. Fai caso da adesso a questi segnali del corpo. Perché ti aiutano tantissimo. E ti possono cambiare addirittura la vita. Benissimo. Per scoprire altri segnali del corpo. Ti lascio sempre gli altri video che ho fatto sul linguaggio del corpo. Qui in descrizione. Valli a vedere così scopri altri segnali del corpo. Molto 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 interessanti. Ho detto molto molto interessanti. Alt prima che fai confusione e casini vari. Ti dico che questi segnali che ti ho spiegato in questo video. Valgono per il sesso che ho detto. Quindi vale che tu ti metta maschio trasgressivo se lei fa questo gesto. Quindi se lei si accarezza l'avambraccio. Non se lui fa questo gesto. Se tu sei una donna quindi e il tuo partner fa questo gesto. Tu non dovrai porti trasgressiva. Perché per il maschio funziona in un altro modo. Quindi se ne vuoi sapere di più. Scoprire altri gesti. Scoprire altre tattiche. Altre strategie. Ti invito nuovamente a iscriverti al canale. A lasciare un mi piace. Se ti è piaciuto questo video. E utilizzerai questi segnali del corpo. E ci vediamo nel prossimo video. Ciao.